Andrea Giacchi e Cecilia Menichella per Radio Lewis, siamo con Alessio Bernabèi, bentrovato Alessio Ciao a tutti, ciao ragazzi Tu sei alla tua seconda partecipazione al Festival di Sanremo, è passato un anno dalla tua precedente artisticamente però per te sembra un po' passata una vita perché hai fatto tanti cambiamenti nel tuo percorso quanto è diverso adesso l'approccio al Festival e quanto ti senti cambiato a distanza di un anno? Sì in realtà in questi due anni con la band abbiamo girato veramente tutta l'Italia abbiamo fatto un sacco di cose che persone le fanno in più anni, noi le abbiamo fatte solamente in due quindi abbiamo veramente stretto i tempi devo dire che questi due anni mi sono serviti per fare tanta esperienza, ho un bagaglio di roba sulle spalle e me lo porto anche qua, anche se adesso la mia carriera artisticamente è cambiata, sono un solista però devo dire che quelle esperienze mi sono servite per portare adesso, per metterla in gioco ecco adesso metterò in gioco tutti questi bagagli che ho portato e li sfoggerò per trarre il meglio delle mie potenzialità quindi sono carichissimo tra l'altro canterai tra poche ore quindi ormai ci sei Sì ci siamo, infatti già ho l'adrenalina in corpo di brutto Allora, Noi siamo infinito, il brano che tu porterai stasera un titolo molto potente e efficace soprattutto perché riprende il titolo di un film che ha avuto molto successo e come mai la scelta di questo brano e soprattutto quanto c'è di te nel pezzo Guarda, in realtà, sì, Noi siamo infinito è un titolo molto forte perché in effetti ha un senso molto forte la canzone Noi siamo infinito, in realtà era nata come un singolo estivo perché ha questo carattere un po' fresco, un po' allegro che è molto ascoltabile anche in spiaggia per capirci Col tempo mi sono accorto che la canzone era veramente forte, veramente efficace che lasciava il segno subito e quindi ho detto perché non portarla proprio a Sanremo, al Festival di Sanremo che è un'occasione appunto d'oro per portare questa canzone che arriva appunto subito quindi sfruttiamola qua e spacchiamo tutto Il senso della canzone è molto bello perché Noi siamo infinito parla dell'amore ma non il classico amore che voi direte vabbè tutte le canzoni di Sanremo, sempre sta amore in realtà no, è un amore inteso particolarmente perché parla dell'amore inteso come libertà come essere liberi, non stare in prigione quindi può essere anche l'amore verso un animale, verso un tipo di cosa e anche nel mio caso l'amore verso la beneficenza che sono molto attaccato anche a questo ho avuto anche esperienze di beneficenza col tempo insomma siamo andati anche con la band a trovare persone malate di lucemia e tutte queste cose qua quindi ho trovato proprio un amore, una sensibilità particolare per queste cose qua Abbiamo detto quindi del tuo brano Hai fatto una scelta anche un po' particolare per Sanremo perché non fai uscire a breve giro di posta del festival cioè subito dopo il festival l'album, giusto? Come mai questa... Ma allora in realtà eravamo un po' stretti coi tempi nel senso che dovevamo preparare il festival di Sanremo in un mese praticamente quindi era anche un po' impossibile incidere tutto all'album ovviamente sto facendo una selezione ancora più forte dei brani per trarre il meglio da questo album che è molto importante è il primo album da cantante solista quindi insomma ci devono essere pezzi veramente forti l'album uscirà aprile, l'otto aprile e dopo Sanremo mi dovrò chiudere in studio con un lucchetto proprio e finire l'album, finire di completarlo e sono sicuro che colpirà molto le persone perché è un sound anche un po' internazionale che fa la differenza Grazie Tante nuove proposte, tanti giovani anche quest'anno sicuramente avrai visto prove, avrai sentito qualche pezzo c'è un artista tra le nuove proposte che particolarmente ti entrava nel cuore che preferisci o una canzone che ti ha colpito? Sì, le nuove proposte sono contento perché è pieno di giovani secondo me noi giovani siamo anche il motore un po' di quello che sarà il futuro poi perché siamo noi il futuro mi hanno colpito molto le canzoni sono canzoni molto contemporanee, molto fiche, molto moderne se devo dire c'è Irama che mi ha colpito molto quel ragazzo mi ha colpito, tra l'altro l'ho conosciuto un bravo ragazzo, ci sta secondo me, a me mi è colpito quella là Perfetto, e allora rimanendo sempre in tema di artisti del festival tra i big invece c'è qualcuno con cui ti piacerebbe duettare fare una collaborazione, qualcuno in particolare anche come affinità artistica? Sì, anche tra i big siamo un cast di artisti ci sono artisti veramente forti, big veri insomma che so, una Patti Bravo che ha decenni e decenni di esperienza di carriera quindi è una persona che ha venduto più di 100 milioni di dischi impressionante quindi perché no, magari una collaborazione con un big, big, veramente big come gli Stadio o Patti Bravo appunto ci starebbe, sarebbe bello poi insomma ho conosciuto anche Gaetano degli Stadio una persona eccezionale facciamo parte anche della Nazionale Basket Artisti Ah, c'è anche poi, vedi, questa è una cosa che scopriamo adesso Esatto, e mi hanno dato addirittura la divisa fighissimo, ho fatto un selfie mi sentivo veramente dentro i Lakers Fattissimo Ma hai giocato, quindi hai esperienza Sì, dall'asilo alle medie ho praticato il basket è il mio sport preferito diciamo, non sono un tifoso del calcio non mi ha mai il calcio non ha mai fatto per me quindi gli do di basket Gli do di basket, perfetto proprio in chiusura io ti chiedo se hai avuto modo di vedere la serata di ieri insomma, se ti è piaciuta la serata e se hai avuto modo di vedere anche l'esibizione della tua vecchia band Sì, sì, no la serata ho visto tutto ovviamente studi anche il territorio, la location perché ti ci dovrai trovare anche tu, no? Sì, ho visto i pezzi sono tutti abbastanza orecchiabili comunque è un festival di livello molto alto secondo me ho visto anche i miei ex compagni la canzone non mi ha neanche dispiaciuto mi è piaciuta molto e faccio anche un bocca al lupo a loro che se lo meritano visto che ci vogliamo bene siamo stati due anni come fratelli e credo che anche che loro me lo faranno a me stasera sicuramente ci facciamo un grosso in bocca al lupo anche noi Alessio e ti ringraziamo per la disponibilità Sì, anche io volevo fare in bocca al lupo e grazie, grazie mille Grazie a voi, grazie veramente Un saluto agli amici di Radio Lewis da Alessio Bernabèi Grazie a tutti